voglio arrivare, già sono incazzato per il calcio mercato per come sta finendo voglio arrivare con l'Inter con 9 punti, non me frega un cazzo che la Roma si è rinforzata cazzi è, Lukaku della minchia, voglio arrivare con 9 punti, ve lo dico subito oggi, non è una passeggiata lato destro ripeto, non me ne frega un cazzo che quelli sono rinforzati proprio di giocare come al solito la nostra solita sfiga contro di noi, tanto non arriverà neanche in condizioni Lukaku pensiamo a noi quelli che abbiamo che comunque sono forti fratelli rossonieri e amici rivali di Youtube buongiorno, buongiorno, buongiorno allora, premessa stasera la partita, mi depur a vederla anche se incontrerà con il Verona perché l'estero due salette, l'estero l'altra saletta quindi saremo belli comodi di là a vederci la nostra partita senza nessun problema senza nulla indi per cui indi per cui non vedo l'ora di giocare stasera venite pure a trovarmi, sabato sera è un orario un po' sbarazzino perché so che siete con le famiglie però chi vuol venire poi saremo tutti li belli accalcati lì nella saletta l'abbiamo già fatto che contemporaneamente due partite quindi vi aspetto a braccia aperte stasera bene figli miei partita importantissima importantissima perché ci porta dobbiamo arrivare con la Roma 6 punti punto, non ci sono 6, non ci sono ma sarà uno scontro diretto comunque non so per che cosa contro la Roma perché la Roma quest'anno con Lukaku se Lukaku è in forma la vedo molto bene abbiamo deciso di non andarci neanche a provare secondo me comunque fuori dai baggi della società ma siete venuti a prendere una gelateria o una tabaccheria no? siete venuti a prendere il Milan e il Milan vuole sempre il meglio l'attaccante più forte che c'era che gli facciamo anche uno sgaro potevamo almeno provarci non ci abbiamo neanche provato anche non un conto è non provarci e provarci che questo non vuol venire è un conto e non provarci neanche secondo me non ci abbiamo neanche provato comunque vabbò pace amen la pagheremo questa comunque molti dicono è scarso ma mi frega un cazzo è come a Masterchef c'entra il piatto l'unica cosa nel calcio c'entra il risultato con gli ingredienti buoni fai risultato con gli ingredienti scadenti non fai risultato detto questo bello il suo paragone di Masterchef mi piace Mike! allora io ho visto Mike delle te sei sempre preciso e perfetto qui due tue che è davanti ogni tanto non so se hanno iniziato a uscire insieme andare a mignotti assieme non lo so anche a Tomori non so se hai conosciuto una donna un po' a Milano una donna una donna nera o bianca non lo so ma una donna molto affascinante che ti ha affascinato anche un attimino un po' la visione delle cose perché secondo me sei troppo sicuro di te stesso ultimamente stai avendo un po' un calo che può capitare per l'amore di Dio a Tomo secondo me sei uno dei migliori difensori del mondo so che è una bella sfida fra voi due più forte Mike però anche Tomo non scherza perché Tomo Toma Frabottis secondo me è una bestia anche lui però ciao idem tirali qualche schiaffone dietro qualche non qualche schiaffone qualche coppino dietro la testa ogni tanto cioè quando sbagliano gli appoggi oppure quando giocano con leggerezza perché noi dietro non abbiamo mai giocato con leggerezza siamo sempre stati delle belve feroci torniamo adesso per favore perché l'unico che sto vedendo che sta giocando con una belva feroce è Teornandes dietro ecco e anche gioca con la massima attenzione indi per cui torniamo a fare quello che facevamo prima per piacere cioè le marcature gli stop gli appoggi la fase di postazione tutti questi elementi qua che sono fondamentali per poi giocare bene anche davanti soprattutto per aiutare anche i centrocampisti a dare la palla precisa sul piede giusto del compagno a dare la palla giusta sul movimento del compagno queste sono le cose fondamentali comunque sia che poi andiamo a fare delle ottime azioni davanti come è successo a Bologna se partiamo bene con la fase difensiva dietro con la nostra palla a terra che sappiamo giocare a pallone ragazzi quest'anno la parkruni c'ha parte che vabbè lì uno spacca legna ma gli altri col piedi sono tutti validi Doctus C compreso abbiamo tutti giocatori tecnici abbiamo giocatori che saltano l'uomo abbiamo giocatori veloci abbiamo tutte le qualità in regola per far bene ma anche con la famosa ciliegina che magari neanche arriverà o vediamo un attimino cosa succede secondo me il mercato dipenderà tanto anche dal risultato della prestazione di stasera ne sono pienamente convinto a destra c'è Davide a destra c'è Davide Davide occhio che davanti Sanabre e Compagnabella sono forti ragazzi occhio perché Juric è un grandissimo allenatore la prima partita hanno fatto cagare hanno fatto 1-0-0 hanno fatto una partitaccia ma Juric l'anno scorso questi qua in 10 contro 11 ci hanno buttato fuori dalla Coppa Italia non ce lo dimentichiamo ragazzi non sono scarsi il Torino è sempre una squadra allestita comunque sia per fare una salvezza tranquilla o un domani per puntare magari una conference comunque non ci facciamo non ci facciamo prendere dalla foga degli 80-75 mila spettatori che ci saranno a San Siro tutto quel cazzo è giochiamo concentrati giochiamo tranquilli oggi voglio vedere un cazzo di motoscaffo a sinistra che prende il via fa gneum gneum cioè oggi piazza San Babila vai dritto verso c'è Porta Venezia c'è Lima sinistra Loreto sempre dritto segui il ponte sulla sinistra arrivi a San Siro ti voglio il motoscaffo oggi non c'è acqua non c'è pioggia ci saranno i prossimi giorni ok ti prendi il tuo ombrellino per non prenderti il sole e via si va col tuo motoscaffo Teo oggi voglio vedere il gran Teo che ho visto ultimamente ok a livello di maturità oggi ci serve il Teo anche che magari ci fai anche il primo gol in campionato con il tuo missile da fuori mi farebbe molto piacere poi ci abbiamo capitane ci abbiamo ci abbiamo riders ci abbiamo ci abbiamo Lotus che sono i nostri due i nostri due qualitativamente più forti al centrocampo che abbiamo in rosa Rade fammi star zitto cioè oggi io sinceramente avrei fatto giocare a Dele perché vorrei una squadra più offensiva il mister ha scelto te ancora squadra che vince non si cambia sicuramente il mister ha una visione di te che ti porterebbe anche a letto fammi star zitto quest'anno giocherai tanto da quello che ho capito perché ho capito che giocherai tanto per me non hai neanche avuto un centrocampista in più per farti giocare a te stravede per te speriamo che c'è ragione qualitativamente io a centrocampo secondo me potremmo essere molto più forti tu decidi così va bene vediamo un attimino quando la prima grande che prendiamo che cosa succederà niente capitano fammi la partita dell'altra sera che mi hai fatto divertire veramente veramente capitano America e l'altro sicuramente riders fammi veramente fammi divertire come quando ti vedevo che ero il mio personaggio preferito è street fighter fammi divertire come quando ero un bambino che giocavo con i videogiocoli ai bagni pirata di ceriale fammi divertire veramente fammi fammi godere fammi fammi godere ti prego fammi godere a destra c'è capitano America da te chiedo la solita grande partita di intelligenza ragazzi noi in trasferta facciamo in casa facciamo molte volte con le piccole soprattutto facciamo più fatica che in trasferta loro si chiuderanno e ripartiranno occhio anche Teo che c'è singoli come cazzo si chiama che è forte occhio che quello è forte l'avrei voluto al Minas sinceramente anche se non ci serve ho detto che non servono Terzini però un domani mi piacerebbe vederlo al Minas se Florenzi andrà via o se succederà qualcosa se Caluru tornerà in mezzo ragazzi occhio 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 sulla fase difensiva e davanti ragazzi voglio vedere come ho visto andare sul fondo tante volte a Bologna voglio vederlo anche anche lo voglio vedere anche oggi avete visto il gol che abbiamo fatto il primo gol traversone palla dovera sulla linea di fondo palla dentro il difensore disorientato perché guardava e doveva guardare se ha il pallone se è perso Giroud gol se arrivano i cross dal fondo noi siamo pericolosi se arriva andare a tre quarti Giroud in mezzo a tre persone mi sa che gioca anche a tre il Torino oggi dobbiamo sfruttare le fasce laterali quindi oggi i due terzini devono salire anche te Davide a destra devi salire oggi lo hai fatto giocare Piero se guarda la partita di Piero perché c'è da spingere sulle fasce loro giocano a tre dietro quindi sull'uno contro uno abbiamo più possibilità comunque sulle fasce la partita oggi si vince dove? sulle fasce laterali dovevamo vincere oggi la partita quindi c'è davanti i singoli quando c'è il difensore che è il difensore veloce che è una bestia come te le ha tu sempre vai in difficoltà Raffaello io oggi con le cazzo di cuffie te il fico super il culo visto che è un video che si è andato pure da Lazza fratelli fratelli di qua fratelli di là che per 10 anni manco più vinculate pensa a giocare a pallone lascia stare sti cazzo di dischi mica dischi quando sei avrai 40 anni ci avrai tutto il tempo per imparare a farle adesso gioca a calcio sei giovane gioca a calcio Lazza non è capace di giocare a pallone tu invece sei fortissimo pensa a giocare a pallone pensa a giocare a pallone cazzo pensa a giocare a pallone dopo di che dopo di che che cazzo è che dovevo dire ah ho Sparviero bello e simpatico gli riforniamo i palloni a questo ragazzo che le palle le sa mettere molto 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 bene dentro gli riforniamo i palloni a questo ragazzone gli riforniamo i palloni noi basta che gli riforniamo i palloni e lui te la mette dentro noi gli diamo i palloni in special modo sulla linea laterale e lui te li mette dentro andiamo avanti a giocare a pallone quando giochiamo a pallone è devastante Ciuco pronto ad entrare mi devi spaccare la partita se siamo in difficoltà se saremo in difficoltà tanto toglierà l'off to C e lascerà Krunic vi dico già il primo cambio se siamo in difficoltà toglierà l'off to C e metterà dentro perché figurati si tocca Krunic e metterà dentro Pulisic dietro la punta con Ciuco andremo a giocare così se saremo in difficoltà speriamo di no speriamo subito di risolvere nel primo tempo sta cazzo di partita sarebbe un sogno finire la 2-0 come il Bologna all'andare a finire con un bel tè fresco negli spogliatoi ragazzi grazie a tutti per i nuovi arrivati su Instagram oggi però non parliamo oggi parliamo di calcio non parliamo di social comunque oggi pomeriggio vi chiamerò in molti per fare la che ho imparato a fare da solo per fare l'iscrizione sulla Sisal ieri ho conosciuto tanti ragazzi avrete anche il mio numero quindi un bacio un abbraccio ragazzi vi voglio bene e soprattutto andiamo a vincere vi aspetto al bar sta cazzo di partita dai raga